Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Stefano Petrillo, sono il co-founder di angioricondizionati.it. Mi preme dire che oggi sono qui in sostituzione di mia sorella, che è l'amministratrice delegata della Prestige Group SRL, che a 22 anni era già amministratrice delegata della nostra startup, che oggi compie circa otto bilanci depositati. È importante dirlo perché essere a 22 anni amministratrice delegata e oggi ne ha 30 con due figli è un impegno molto importante, soprattutto perché in questo lasso di tempo ho avuto l'opportunità di laurearsi e soprattutto anche di prendere un master, ma di essere mamma e di lavorare. Quindi un impegno che le viene strariconosciuto e avendo avuto una figlia non più di dieci giorni fa, oggi ci sono io qui. Vi voglio un po' raccontare con angioricondizionati.it. Noi parliamo di capitalismo sostenibile, che vi potrà sembrare uno simoro, capitalismo sostenibile, insomma di che cosa ci sta parlando, è di democrazia digitale. Durante la pandemia molti dei vostri genitori avranno dovuto comprare minimo uno barra due computer, tablet, per potervi far studiare da casa, no? Avranno fatto dei sacrifici. Io vengo da una famiglia normalissima. So cosa significa quando bisogna chiedere a un genitore di spendere 600-700 euro per poter studiare e nessun genitore vuole mai far rimanere indietro un figlio sugli studi. Ecco, durante la pandemia il nostro motto era che nessuno resti indietro. Perché? Perché tanti padri di famiglia hanno comprato dai genitore ricondizionati dei device, dei notebook ricondizionati a dei prezzi molto più accessibili, dando l'opportunità a tanti ragazzi e ragazze di studiare. Ed è fondamentale ed è molto importante. Per quanto riguarda la parte di sicurezza, sapete quanti, immagino anche voi che siete tutte ragazze giovani, avete nei vostri cassetti il vostro primo telefono, poi magari il secondo custodito lì perché avete dalla fotografia della vacanza con i genitori piuttosto che altri dati sensibili che custodite gelosamente. Ecco, qual è un patrimonio che voi avete? È un patrimonio del quale tutti quanti vogliamo essere certi che non finisca mai in mano ad altre persone, così come è accaduto a personaggi famosi, lo sapete che cosa è accaduto, o di video che poi sono finiti sul web, così come anche a ragazzine della vostra stessa età. Noi cosa abbiamo fatto? Per garantire la sicurezza nella seconda vita di un device, abbiamo sviluppato, assieme a degli sviluppatori di software internazionali, in questo caso sono dei ragazzi israeliani, dei geni, una certificazione di cancellazione dei dati. Quindi qualsiasi device che in giorni ricondizionati vende o acquisisce subisce una distruzione del dato per più di una volta, quindi viene almeno due volte disintegrato il dato all'interno delle schede madre. Questo permette di essere tutti tranquilli, di poter dare il nostro telefono per farli ricreare una seconda vita, ma allo stesso tempo di acquisirne un altro, dove su non ci sono dei dati sensibili di altre persone. Stefano, appunto, lo stiamo un po' raccontando, attraverso la telefonia mobile, insomma, passa gran parte nei nostri rapporti sociali. Abbiamo parlato appunto della sicurezza dei dati. Voi siete una realtà anche presente all'estero, comunque tu hai avuto un'esperienza anche molto lunga in altri paesi. Ecco, qual è l'esperienza che tu pensi possiamo apprendere dall'estero e portarla in Italia, invece qual è la nostra, se c'è una nostra best practice? Bene, bella domanda questa. Diciamo, più di una volta mi è capitato di raccontare negli speech che l'italiano nel DNA ha un qualcosa in più. Fateci caso, all'estero ricopriamo le posizioni più alte all'interno dei CDA o le prime linee delle multinazionali più importanti sono ricoperte da italiani, Apple, oppure in borsa allo Stock Exchange di New York o a Londra. Ecco, questo ci fa capire come a volte ci sottovalutiamo e allo stesso tempo molti di noi sono fuori perché vedono che l'Italia, o pensano che l'Italia non possa dare opportunità. Io sono uno di quei ragazzi che è ritornato invece in Italia per ridare valore sul territorio e mi è costato sacrificio. Non è sicuramente una passeggiata di salute, però oggi ascoltare ragazzi come Mirko, a cui faccio i complimenti, a 20 anni e insomma tenere una conferenza ti faccio davvero i miei complimenti, sei un ragazzo molto in gamba, mi danno uno stimolo per poter continuare ad andare avanti e capire che ci sono tanti ragazzi che hanno ancora tanta voglia di fare. Vorrei dirvi, proprio perché ci sono pochi anni di differenza tra di noi, che la nostra generazione è chiamata ancora una volta alla resilienza. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo resistere, dobbiamo avere pazienza, dobbiamo studiare, perché dobbiamo continuare a studiare, perché all'estero i ragazzi della vostra età, così come lo ero io, studiano, studiano anche tanto, conoscono molte lingue, ma soprattutto sviluppano. Ok? In Cina sin dalle scuole elementari si diventa sviluppatori. Non significa che dobbiamo mettere da parte le materie umanistiche, attenzione, un sacco di sviluppatori escono da università di filosofia, di lettere classiche e magari non da matematica, neanche da fisica. Quindi in questa fase epocale di cambiamento, di passaggio da economia lineare, basata sul modello diciamo di capitalismo consumistico che tutti quanti conosciamo, stiamo andando attraverso il modello di economia circolare. Non sono, non è Stefano Petrillo a dirlo, è Larry Fink, BlackRock, zio di BlackRock, che ci dice, scusatemi a gennaio ho fatto una dichiarazione sui fondi ESG, devono portare valore e subito. No, questa cosa non è più possibile, perché dopo un mese ha ritrattato le sue parole dicendo, da persona intellettualmente onesta e intelligente, siamo chiamati alla resilienza. Siamo chi? Gli investitori del fondo BlackRock in questo caso. Cioè significa che per i prossimi due o tre anni dobbiamo tutti quanti lavorare affinché questo passaggio epocale della situazione in cui noi ci troviamo, di una pandemia appena finita. Ricordiamoci che cent'anni fa c'è stata una pandemia, in 1920, 2020, chi conosce la teoria dei cicli? E in finanza credo che la conosciamo abbastanza bene. Ora ci ritroviamo e dobbiamo preoccuparci perché il 40 potrebbe arrivare anche qui. Quindi non facciamo le tesine, coprimolevi, dicevo a Claudio, dove ci ricordiamo che questo è un uomo, glielo raccontiamo ai professori e poi ci dimentichiamo. Non dobbiamo più dimenticarci cosa è accaduto nel passato. Non studiamo tanto per studiare perché è una pappardella, perché gli altri nel mondo corrono più veloci di noi. Va bene? Noi siamo italiani, non dobbiamo più cullarci del fatto che siamo italiani. La scorsa, l'ultima generazione ci ha lasciato ora in questo momento che dobbiamo affrontare, che è sicuramente di difficoltà. Gli adulti ci possono aiutare perché qualche capello bianco che ho anch'io ormai sono sintomo più di aiuto ma di esperienza, perché vuol dire che hanno fatto delle esperienze prima di noi, ma siamo noi che ci dobbiamo rimboccare le maniche. Quindi ho segnato alcuni punti di cui gli ospiti autorevoli che ci sono qui hanno parlato. Sono stato contentissimo quando la dottoressa Segre ha menzionato la cultura della sicurezza. Sappiate che ogni sei mesi esce una nuova posizione. C'è la possibilità che fra qualche anno non esisterà più il contadino, perché tanto lo farà un robot, lo farà l'artificial intelligence. Va bene? Però magari responsabile della sicurezza cyber aziendale. Sapete chi è? Non è responsabile della sicurezza in generale. Cioè che se qualcuno cade in ciampa bisogna stare attenti a mettere un segnale sul gradino. Mind step, mind gap come in Inghilterra. No, ma il responsabile che deve portare oggi, specialmente alle persone più grandi di noi che sono meno attente, è arrivata la mail da poste italiane e abbiamo appena ricevuto un bonifico a suo nome. Clicchi qui per controllare il bonifico. Ecco, sono i vostri genitori. Fate una fotografia, fate uno screenshot e mandatelilo. Voi dovete fare cultura. Siete chiamati a fare cultura in questo momento. Perché? Perché siete più sbelli. perché magari trent'anni fa, quarant'anni fa, non si utilizzava uno smartphone. Oggi io ho mio nipote, così come tanti bambini di un anno, due anni, che fanno saltannuncio su YouTube. Beh, io forse a un anno piangevo nella culla e oggi sono già dei smanettoni digitali, no? Quindi è importantissimo perché siamo chiamati noi alla, diciamo, a una sensibilizzazione e a una guida, poi, del nostro paese. La Puglia è una terra di innovazione. Io sono orgoglioso di essere pugliese. Oggi sono a Milano, che mi ha accolto come una seconda casa. Però abbiamo visto che abbiamo aperto la Puglia Valley qui. Facciamone... andiamo continuità alla Puglia Valley. Come? Eh, da Lecce magari incominciamo a studiare innovazione tecnologica. E le donne? Beh, rispetto a noi, io ricordo sempre in azienda la prestigio del 70% sono donne. Quando io ho la febbre a 37 sono a casa nel letto morto e ho bisogno dell'ambulanza e invece voi per tre giorni al mese continuate a lavorare come se nulla fosse. Quindi già questo vi fa capire quanto siete più forti di noi, no? Un uomo e una donna che forse non ce l'ha fatta, diceva qualcuno. Quindi capite bene quanto siete importanti all'interno della società e all'interno del mondo lavorativo con la vostra caparbietà. Grazie.